Alla fine ci sarà un vincitore dell'anno tra i parchi pubblici e uno tra quelli privati. Per ora abbiamo i dieci finalisti scelti dalla giuria del network Il Parco Più Bello d'Italia che sul suo sito ilparcopiubello.it ne cataloga e descrive oltre mille tra giardini, parchi, orti botanici, distese verdi e c'è una grande varietà anche tra questi dieci finalisti. Il giardino di Ninfa, provincia di Latina, magica mescolanza di natura e rovine architettoniche, Villa Medici nel cuore di Roma con la sua vista mozzafiato, Villa Groc in Peria, luogo delle meraviglie creato dal clown Adrian Vektak.